Oggi abbiamo sostato nella costa sudorientare, bellissima spiaggia e acqua cristalcina. Il paesaggio purtroppo mostra ancora evidenti ferite del 6 agosto. Il paesaggio purtroppo, bellissima spiaggia e acqua cristalcina. Il paesaggio purtroppo, bellissima spiaggia e acqua cristalcina. Quello che appare nel video è solo una parte del disastro dei tantissimi ettari colpiti dalle fiamme. Le conseguenze dureranno anni e non sempre le ferite saranno rimarginate. Noi andiamo via consapevoli che sino a quando ci saranno interessi criminali, gli incendi in Sardegna non cesseranno.